Tutti i prodotti vengono dalla terra e sono fatti dall'uomo. Nel momento in cui si discute di cibo sintetico e di come preservare i prodotti made in Italy, da Cibus Connecting arriva un messaggio chiaro rivolto ai consumatori. La sostenibilità è data proprio da questa unione, l'uomo e la terra. E più l'uomo riesce a lavorare la terra senza scocciatoie, più la terra darà prodotti di eccellenza e di bontà. Ed è questo il consumatore cercare, quel sognone che c'è fra il campo e lo scaffale. Riscoprire la simbiosi tra terra e uomo è l'impegno di Farchioni, il gruppo con oltre 240 anni di storia che coltiva i prodotti della terra e li trasforma in olio, birra, vino, farine speciali e distillati. Da qui l'appello a riscoprire prodotti etici rispettosi della natura e della terra. L'azienda sta andando bene, sta crescendo, soprattutto in prodotti nuovi, perché stiamo capendo che non dobbiamo per forza fare di più, ma sicuramente farlo meglio, perché il consumatore merita una scelta. E merita una scelta di qualità e di certezze e di sostenibilità dalla terra.